Molte patologie sanitarie sono dovute a fattori ambientali e ormai universalmente riconosciuto dalla scienza che nei nostri primi mille giorni di vita viene scritto nel nostro codice genetico la predisposizione a una serie di malattie che fino a oggi ritenevamo croniche, il diabete secondo, l'obesità, l'ipertensione, l'alzheimer, i disturbi del neurosviluppo. La buona notizia è che tutto questo è reversibile, nei paesi in cui sono stati eliminati i pesticidi i valori statistici di queste patologie sono tornati a quelli precedenti. Bisogna lavorare tutti in questa direzione e ridurre i fattori inquinanti all'interno dei nostri ambienti, in casa e fuori.